Quando Gezi mi ha chiesto di indicare i film preferiti, si trattava di indicarne soltanto alcuni, quindi ne restano fuori parecchi che avrei citato con lo stesso piacere. Comunque ho scelto Tempi moderni di Charlie Chaplin, Gli uccelli di Hitchcock e Alexander Niewski di Eisenstein. Forse lei vuole sapere per quale motivo le ho scelte, ma credo che il cinema sia un occhio tra i più potenti, uno sguardo tra i più potenti gettati sulla realtà, perché se la realtà non è guardata allora si ha una fantasia, che non è nemmeno una fantasia ma così è un gioco che può diventare esso stesso la realtà più bieca. Per sognare bisogna contrapporre il sogno alla realtà. La realtà è la trasformazione del nostro tempo, il quale dalla vicinanza al divino è passato alla lontananza rispetto al divino. Il nostro è il tempo dalla lontananza, anche se oggi il cristianesimo crede di essere tra i fattori vincenti o comunque alla guida del mondo, si tratta di una fase provvisoria rispetto a un processo che dura da 200 anni di progressivo declino del sacro. Ecco, il cinema che ha il vantaggio rispetto alle altre arti di essere nato nei tempi più recenti è particolarmente capace di mostrare questo passaggio, non c'è più il Dio, cosa vuol dire? Vuol dire che allora l'ironia di cui parlavano i romantici e può investire tutto il contenuto della realtà, tutto diventa, tutto perde serietà, tutto diventa leggero. Il film comico e soprattutto a mio avviso i film di Celi Chaplin, una volta non esitavo, non ho esitato a scandalizzare qualcuno dicendo che Celi Chaplin mi faceva in maniera in mente Mozart, Mozart, il film comico ha questa, soprattutto di Chaplin, ha questa capacità straordinaria di mostrare appunto il carattere ironico di ogni contenuto, nulla è serio, perché per essere seri bisogna essere aggrappati al divino e quindi la morte di Dio è anche la morte della serietà, questo non vuol dire che viviamo in braghe di tela, ma che nulla merita di essere tenuto fermo per sempre, di essere oggetto di una fede incondizionata e via dicendo. Per quanto riguarda Alexander Nierski, il carattere comune di tutti i film è la morte, quando si parla di morte di Dio si parla anche della proiezione del divino, della morte come tratto essenziale dell'umano. Ho scelto Alexander Nierski perché è uno dei pochi film che per quanto possa sembrare paradossale parla ancora del divino, ma di quale divino? Del divino che è l'ideologia marxista, che si ripropone nella lotta contro l'invasore teutonico. E allora questo film è, anche se so che Eisenstein è un grande teorico, che tra l'altro si professa anche filosofo, e si professa filosofo marxista e dialettico, uno dei modi in cui il Dio religioso si proietta nel mondo è anche quello delle grandi ideologie, il marxismo era un modo di presentare il divino, il divino era la legge necessaria che lungo la storia porta all'emancipazione di classe. Quindi scelsi Alexander Nierski come, e quindi forse ne avrei dovuto parlare per prima, per indicare la dimensione a partire dalla quale il cinema si va sempre più radicalmente allontanare. Ecco, Gli Uccelli è direi il più moderno di Hitchcock, il più adeguato a ciò che realmente sta accadendo nella civiltà dell'Occidente. Come dicevo prima, il contenuto è inevitabile, è la vita a cui è legata la morte dell'uomo. Quindi un prodotto artistico in generale, è a maggior ragione un film, una dimensione cinematografica che non si rivolga allo scontro vita-morte e in fondo alla nullità di tutte le cose, questo è il credo ultimo del nostro tempo, che è un credo disperante nonostante tutte le maschere, i veli che gli si vogliano mettere sopra, ma è disperante. Allora se la nullità è il contenuto di tutto, allora tutto diventa enigmatico, perché c'è una cosa, ma che cosa ha alle sue spalle? Nulla, è venuto, sì anche questo bel luogo che ha tanto tempo alle proprie spalle, però è un emergere, potremmo usare la parola casuale, è un caso che le cose ci siano, è un caso. E allora caso vuol dire assenza di spiegazione. Aristotele diceva che la filosofia nasce dalla meraviglia per le cose che non hanno spiegazione, che sembrano appunto casuali, lui le chiamava automata. Tutto ciò che accade è casuale e la morte stessa si presenta come casualità. Negli uccelli, gli uccelli rappresentano la minaccia della morte, la morte che incombe, ma perché? Perché a un certo momento si vedono i suoi fili, non c'è spiegazione, assolutamente spiegabile. La minaccia accade senza spiegazione e dopo che la minaccia ha arruffato e ha piantato gli artigli nella vita dell'uomo, ecco che a un certo momento la minaccia se ne va senza spiegazione, perché in fondo lo spettatore e anche direi la logica del film rimane con l'angoscia perché la minaccia possa ripresentarsi. Ma forse quello che dicevo prima di Hitchcock è un esempio in cui Hitchcock ci tiene poco a fare il filosofo, però è profondamente filosofico il suo messaggio per i motivi che ho detto prima. Ecco, in Kubrick c'è però qualcosa che in Hitchcock non c'è e cioè è presente quel tema dell'inevitabile, è un tema al quale mi sono interessato da tempo, dell'inevitabile prevalere della tecnica sui messaggi che la tecnica telematico, informatico, cinematografico, televisiva, qui occorrerebbe una parola per dire tutto questo insieme, forse c'è, io la ignoro. Ecco, allora l'inevitabile prevalere della tecnica che trasmette il messaggio sul messaggio trasmesso. Credo che come in qualsiasi altro campo il messaggio principale che subordina a sé gli altri messaggi sia quello in cui la macchina, ma intesa in un senso molto più intelligente di quello che non sia normalmente presente nelle interpretazioni meccanicistiche o macchinistiche della macchina, ecco che la macchina, che l'osservatore macchina trasmetta questo messaggio. Io sono capace di trasmettere qualsiasi messaggio. Allora questo è il super messaggio che fa passare in seconda linea tutto ciò che via via costituisce il contenuto proiettato, trasmesso. Ecco, in questo senso allora Kubrick possiede qualche cosa, dice qualche cosa e in quel caso la macchina è l'automa che si avvia a diventare dominatore di quelli che vorrebbero servirsene. Ecco, c'è qualcosa nel film di Kubrick che non c'è nel film di Hitchcock. Indubbiamente il cinema è tecnologia, però credo che si dovrà imparare sempre di più a distinguere tra la tecnologia in quanto tale e chi si serve della tecnica o della tecnologia, perché oggi per esempio si dice che il capitalismo è tecnologia, però c'è una profonda differenza tra capitalismo e tecnologia. Il capitalismo ha degli scopi che la tecnica in quanto tale non ha, la tecnica in quanto tale vuole aumentare all'infinito la capacità di produrre scopi. Lo scopo del capitalismo invece è l'incremento del profitto privato e anche l'incremento della scarsità, mentre la tecnica vuole eliminare la scarsità perché vuole la potenza, il capitalismo vuole invece alimentare la scarsità, altrimenti non si venderebbe più niente. Allora il capitalismo si serve di uno strumento che scalza il terreno sotto i piedi del capitalismo stesso. Così per quanto riguarda il cinema, indubbiamente il cinema è tecnologia, ma il discorso che facevo prima era questo. Oggi i grandi messaggi vedi Eisenstein, Eisenstein voleva servirsi della tecnica cinematografica per promuovere il messaggio marxista. E così, Dreyer intende servirsi della tecnica cinematografica per promuovere un messaggio di salvezza religiosa. Credo che ci dovrà abituare a vedere che lo strumento che dovrebbe trasmettere il messaggio, che quindi viene assunto inizialmente, viene usato inizialmente come strumento che ha uno scopo diverso da sé, sarà destinato a fare quello che dicevo prima io, e cioè a diventare lo scopo che si serve del messaggio per realizzare la propria indefinita capacità di realizzare scopi. L'equivalente sul piano economico rispetto a quello che dicevo prima sarebbe questo. Oggi il capitale si serve della tecnica per incrementare i profitti, ma andiamo verso un tempo in cui sarà la tecnica a servirsi del capitale per incrementare la propria potenza e facciamo il pandan con un fatto cinematografico. Grazie. 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 Grazie.